Buongiorno e ciao a tutti, oggi parliamo di barrette energetiche, uno dei prodotti più conosciuti e utilizzati nel mondo sportivo, specialmente nel mondo endurance ma anche nel mondo crossfit. Che cosa sono le barrette energetiche? Allora parliamo di un prodotto al 90% di alimenti usati a scopo integrativo, tranne qualche eccezione che poi vedremo. La barretta energetica non è altro che un condensato di quei prodotti che possono aiutare ad avere più energia, però non dal classico integratore. La barretta è proprio per chi ama masticare, per chi ha il desiderio di avere qualcosa di più simile all'alimento, però allo stesso tempo deve essere molto digeribile, non deve appesantire e deve avere anche delle caratteristiche tecniche. Senz'altro le più famose barrette energetiche sono quelle a base o di sola frutta o di solo frutta secca. È un po' l'inizio con cui si può utilizzare una barretta energetica. Quindi avete dei prodotti calorici, solo frutta, quindi zuccheri, ma dalla frutta, quindi fruttosio, non saccarosio aggiunto. A frutta secca avete anche l'aspetto degli acidi grassi. Barrette che vengono usate mezz'ora prima di partire, ad esempio in bici o anche di correre a piedi, e vengono poi usate per lo più nel mondo bicicletta, qualche volta triatlon, durante, quindi sempre ogni famosi 50-60 minuti, magari anche ogni 15 km. Però è più difficile nella corsa, magari nel trail running, perché nella corsa classica, mezzo maratone, maratone, la barretta non è molto utilizzata. La barretta quindi deve essere energetica, leggera e salutare, quindi non deve avere zuccheri aggiunti come il saccarosio, ok, ma deve avere lo zucchero classico della frutta, oppure magari zuccheri più tecnici, possono essere aggiunte di manco d'estrine, di ciclo d'estrine, ma per lo più ricordo c'è sempre la frutta. Si possono avere poi delle barrette più evolute, come ad esempio la nostra energetica, che è una miscela di frutta e frutta secca e anche crispi di riso, quindi una barretta piccola, pratica, ma molto energetica in vari gusti. Dalle barrette energetiche classiche, quindi frutta o frutta secca o miscele, si possono passare, come dicevo all'inizio, a delle barrette un pochino più simili agli integratori, ovvero vengono aggiunti degli integratori a queste miscele di frutta e frutta secca. L'esempio pratico è la nostra cronobar, che è una barretta sostanzialmente con pasta di datteri, può avere il cioccolato o arache di salate, ma ha in aggiunta due integratori importanti, della caffeina, 80 mg, e dell'estratto di tè verde, 80 mg, quindi avete sia l'aspetto energizzante della caffeina e sia l'aspetto antiossidante del tè verde, associato poi ovviamente all'aspetto energetico classico della frutta. Quindi vedete, potete scegliere barrette più classiche, fruit bar, nuts bar, barrette un po' più evoluta e energetica per finire alla cronobar, che è molto più tecnica.